Buonasera e benvenuti a Veneto City, questo nuovo appuntamento che vuole essere un contenitore culturale, un contenitore di approfondimento per trattare quelle che sono le tematiche di attualità ma anche le problematiche del nostro territorio, Veneto appunto, come dice il titolo della nostra trasmissione di questo nuovo appuntamento. Tematiche di approfondimento riguardanti proprio quello che è il nostro territorio ma anche l'attualità e anche tematiche un po' più ampie e vaste che sembrano magari riguardarci da lontano ma che poi in realtà sono più vicine di quanto pensiamo. Oggi parliamo infatti di un argomento di attualità che è un argomento che abbiamo voluto iniziare forse con una tematica forte perché questa sera parliamo di pedofilia. L'abbiamo voluto affrontare questo tema perché a parte le recenti notizie anche che sono apparse di cronaca sui nostri giornali ma perché comunque è giusto conoscere, è giusto conoscere anche quali sono le opportunità legate al contrasto di questo reato che è uno dei reati tra l'altro più terribili perché è quello ai danni dei bambini. Allora io vado subito a presentare i nostri ospiti che sono con noi per approfondire questo argomento. Vado a presentarvi subito Raffaele Zanon che è consigliere regionale PDL Veneto. Buonasera, benvenuto. Micaela Grasso psicologa dell'età evolutiva. Buonasera. Benvenuta anche a lei. Ciro Pellone dirigente regionale della Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto. Buonasera. Ben arrivato. E Mario Bolzani presidente di NEST2SPA. Buonasera. Consigliere Zanon, io farei introdurre a lei il tema di stessa l'abbiamo detto pedofilia perché so che questa tematica è una tematica a lei cara, è una tematica, una battaglia su cui lei si è impegnato profondamente. Sì, è una battaglia che stiamo affrontando proprio in questi giorni in sede di quinta commissione, la commissione si occupa di sanità e politiche sociali della regione del Veneto che ha già messo proprio il proprio punto dell'ordine del giorno, proprio l'analisi della legge che ha me come primo firmatario che riguarda proprio le norme in materia di pedofilia. È una modifica alla legge regionale contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale che permetterà di sviluppare azioni più concrete a livello istituzionale per fare prevenzione e soprattutto per portare la prevenzione nelle famiglie, nelle scuole laddove il fenomeno deve essere conosciuto e soprattutto si deve informare correttamente i cittadini di quelli che sono anche i punti di riferimento istituzionale per poter contrastare le azioni illegali perché non siamo di fronte solo ad un reato, quello della pedofilia, ma siamo di fronte ad una sorta di situazione in cui tante famiglie si trovano ad affrontare da sole spesso alcune questioni che ritengo debbano essere affrontate dalla comunità con più forza, con dispositivi legislativi più precisi, anche perché come tutti sanno con lo sviluppo del sistema web, dell'informatica e di internet i reati purtroppo non diminuiscono ma anzi aumentano ai danni in particolare proprio dei minori e delle donne. Tra l'altro io le chiedo subito perché lei dice una legge che va attualizzata, stiamo parlando in realtà di una legge del che anno? Stiamo parlando di una legge che ormai ha quasi dieci anni d'età, una legge che va potenziata soprattutto per quegli strumenti preventivi che possono essere portati nella scuola attraverso la messa a conoscenza del corpo docente di quelle che sono strumenti indispensabili per fare una buona azione, soprattutto capacità d'ascolto di quelli che sono i messaggi che ci provengono magari dai bambini che spesso trovano magari noi incapaci di cogliere alcuni segnali che arrivano da coloro che sono più indifesi e poi anche la scuola stessa che comincia a affrontare un po' più compiutamente anche con strumenti tecnologici la possibilità di porre ad esempio dei filtri o dare delle indicazioni valide alle famiglie, cosa che credo sia indispensabile quanto ovviamente l'azione che svolgono già gli organi preposti, le forze dell'ordine, gli uffici preposti della Polizia Postale, cioè i dipartimenti che devono agire a livello regionale e nazionale per contrastare questo fenomeno. C'è un aspetto che poi credo vada sottolineato, il fatto che si tenta di mettere in moto un osservatorio regionale che monitorizzi tutte queste azioni, che metta in condizione di elevare a modello alcuni progetti che si realizzano fortunatamente nel territorio, mettere in rete tutte quelle realtà che oggettivamente possono essere una barriera di fronte a quello che ripeto è un reato contro l'umanità e che va contrastato con tutte le nostre forze, ma soprattutto con le forze della conoscenza e dell'informazione.